Con il Piano Estate l'Istituto Agrario Stanga continua ad essere aperto almeno fino alla prima decada di luglio. L'estate mira ad arricchire le esperienze educative e sociali degli studenti. Il Piano Estate è un'attività che in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito alcune scuole d'Italia, dalla provincia di Cremona, in questo caso di Cremona, hanno voluto attuare per fare delle attività estracolicorali sul potenziamento, sull'approfondimento didattico, anche sulla ricerca, facendo venire i ragazzi d'estate nei diversi istituti e ampliando l'offerta formativa. Noi allo Stanga siamo fortunatissimi perché siamo uno dei pochi istituti in provincia che ha voluto attuare questo piano. I ragazzi stanno lavorando ad alcuni progetti. Ci occupiamo di sistemare, in caso anche pulire, mettere a posto, spostare, in modo da rendere l'ambiente il più pulito e ordinato possibile e di mettere in mostra gli oggetti storici che fino a poco tempo fa erano sotto l'uscio. Questa scuola è un patrimonio ed è un bene, infatti abbiamo una grande fortuna ad averla. Siamo 12 ragazzi che si sono messi in mente un progetto di mettere a posto, di sistemare, per dare un valore ad oggetti storici. Infatti questa scuola è una scuola storica, ha questi oggetti che hanno una storia alle loro spalle e pensiamo che debba tornare a galla.